Ben trovati sul mio canale in cucina Sole Amore. Oggi prepareremo un calzone con prosciutto, scamorza e mozzarella. Versiamo mezzo chilo di farina. In un bicchiere d'acqua ho sciolto 10 grammi di lievito di birra con un cucchiaino di zucchero per attivare il lievito. Sono all'incirca 200 ml di acqua. Ora cominciamo a versare poco alla volta. Io uso spesso il latte negli itali perché rende l'impasto più morbido. Con me, baby Con me, baby Ora è arrivato il momento di aggiungere il sale. Il sale va aggiunto lontano dal lievito. Eccociano Moffi Cajamino Grazie a tutti. Lavorare col palmo della mano. Come vedete il latte non ha voluto tutto, dipende sempre dalla farina e i liquidi che ho accetta. Se la farina è molto asciutta vorrà più liquido, se la farina è umida vorrà meno liquido. Lavorate finché non risulta un panetto liscio e omogeneo. Prendiamo una scodella in plastica e un dipunta di olio. Porniamo il panetto all'interno e copriamo con un panno. Lo lasciamo a riposo per almeno un paio d'ore. Quando l'impasto avrà ranziato. Prendiamo il panetto all'interno. Prendiamo il panetto. Prendiamo il panetto. Prendiamo il panetto. Prendiamo il panetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.